Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog, sono già in tenuta super sportiva perché vi farò finalmente il video del mio allenamento piccolo segretino per aumentare il metabolismo, per bruciare più grassi e prepararci alla prova costume il mio segreto è questo, le Fit Caps di Natural Mojo, ragazze le adoro, le sto prendendo praticamente ogni giorno e sono praticamente delle capsule naturali con peperoncino, la garcinia camboccia, insomma arte verde tutti estratti che servono per aumentare il metabolismo, bruciare più grassi e quindi eliminare un po' i chiletti in eccesso le consiglio perché sono completamente naturali, quindi non hanno controindicazioni sono delle pilloline, vi faccio vedere ne avevo parlato un po' di tempo fa se vi ricordate in un vlog e avevo detto che le stavo provando ragazze, ve le straconsiglio, è la seconda confezione, le adoro ne prendo tre, un'ora prima che mi alleno quindi adesso, mentre finisco di preparare, mentre vado in palestra, mentre mi spoglio mentre faccio una chiacchiera con chiunque incontro per strada passerà un'ora, forse anche più quindi le prendo, una, le bevo come pilloline non sanno di un cavolo dentro c'è solo polvere due e tre sono veramente ottime io adesso mi allenerò al digiuno ma per avere un po' di energia come fai a allenarti al digiuno che a me piace mangiare dopo, con lo stomaco pieno poi anche il mio PT me lo consiglia però, per darmi quella sversata di energia svegliarmi, eccetera mi bevo questo qua un caffè speciale sempre di Natural Mojo si chiama Happy Coffee che non è solo caffè ma è molto più buono perché contiene anche cacao estratto di bacche, di acai garcinia, cambogia vedete appunto che anche questo qua aumenta il metabolismo quello già il caffè ha un potere che è energizzante aumenta il metabolismo è anche antifame il caffè a me questa cosa mi sazza fa passare un po' la fame questo qua poi è buonissimo ha un profumo ottimo e aiuta appunto ad aumentare il metabolismo e a vedete? mmm, ma da un profumo e a dare quel senso di sazietà quindi anche allenandomi al digiuno ce la faccio benissimo poi c'è anche il cacao quindi anche a chi non piace tanto il caffè è buono quindi queste due cose per aumentare il metabolismo e questo qua viene assieme al caffè c'è tutto il kit comunque andate sul sito Natural Mojo e mi raccomando ragazze utilizzate il mio codice sconto sul sito Natural Mojo carita dolce 20 così inserendo questo codice inseritelo sempre qualsiasi cosa comprate sul sito Natural Mojo avrete sempre il 20% di sconto che non è poco quindi potete anche fare un ordine di più cose appunto per prepararvi all'estate prendete il caffè prendete appunto le Fit Cups le Whey a vaniglia che vi feci vedere varie cose appunto di Natural Mojo prodotti Fit anti Fit Chocolate tutti quelli là buoni buoni carità dolce 20 risparmiate un botto 20% di sconto quindi mi raccomando comunque vi lascio il link di tutte le cose i miei prodotti preferiti Natural Mojo le box info così andate sul sicuro e adesso vado ad allenarmi yeah carica 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 carichiamoci ragazze ecco le persone cioè eccolo non le persone sono io sono lui buongiorno pronti pronti via ci siamo ci siamo lei ci deve essere noi come ti chiami? alessandro ale cantino pasto napoletano vittino contattatelo perché è bravo è bravissimo ragazzi però è più bravo all'arriva che vittino no no aveva fatto perdere 45 kg comunque dare oggi sarà il mio cameraman vuole dire una cosa sopportatelo ragazzi ragazzi io sto in borghese guardate lei sta in tenuta cinica io ma non ci interessa abbiamo fatto il video allenamento no guardatemi basta ormai carlita basta meglio me questo lo dici tu però ragazzi adesso è bella è bellissima mi sono gli occhi dell'amore amore no non è bene c'è ale l'istruttore pt ragazzi questa palla pesa 4 kg non è una palla leggera pt questa che numero è la palla? è una palla di 5 kg l'importanza è notare che ha ben istese che solo per il suo caso per andare a isolare l'isola ragazzi guardate com'è brava guardate che è brava è bellissima guardate il pt come la segue guardate questo argomento va bene ragazzi volevi dirvi cosa mangia No, è il bume Ragazzi, è il bume d'uovo Com'è? Buonissimo Guardate, è buonissimo ragazzi Guardate il mio amore come si allena Con tenacia È fortissima Sta alzando 30 kg ragazzi Ragazzi, è bravissima Guardate che atleta Ragazzi, ora è con il pig, è ancora più difficile Guardate il mio amore Guardate come si impegna Guardate il nostro canale Guardate il nostro canale Guardate il nostro canale Il nostro canale Per là es uno E c'è questo canale Ciao Ragazzi abbiamo aumentato il peso Ragazzi guardate quanti pesi ci sono tutto vero qui Dai amore dai che ce la fai vai Ragazzi ciao io vado a casa ho perso l'uso delle gambe Amore vedi qua vado a levare Allora adesso cosa mi tocca di fare? La pede fa a casa La pede fa a casa Questa è bellissima andiamo Si sale si sale Abbiamo su tutto il marito Amore portami un souvenir quando sai Vado in montagna ragazzi Vedi Carlita in montagna Andate Carlita come va l'allenamento? Benissimo sono morta Ah ok Adesso devo solo mangiare dormire Veramente Comunque speravo che questo video sia stato un giro Ciao ragazzi Ciao Mettete like Avete visto come sono bello? Ok Dice Sì 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 Type Grazie a tutti.